Un punto che mi sta molto a cuore è che riguarda la questione del rintracciamento e dell'immuni. Sono due cose che stanno insieme. Sì, perché non succede niente. Intanto l'immuni deve essere scaricata. Non succede niente perché la sta scaricando poca gente, perché l'ha scaricata ancora un numero proprio basso in italiano. Non succede niente una volta. Il punto è che dopo non succede niente, non c'è un test, un tampone, non interviene niente, non c'è questo dopo immuni. Immuni dal segnale e allora... No, no, questo non è assolutamente vero. Però è quello che tutti... No, 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 no. No, si vede che... Che abbiamo sbagliato. No, 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 scusate, qui assolutamente... Cioè lei dice se immuni segnala, ci sta dicendo lei immediatamente... Se immuni segnala, sei tu che sei... Sei tu che vai a Draen. Allora, me lo faccio rispiegare perché se no... No, tu devi chiamare la tua ASL, la tua ASL deve predisporre per te un tampone. Ma non lo fa. Tu non scatta in immediato perché come lei sa è un codice, io sono un codice numerico, io non sono Sandra Zampa per la immuni. Ma non scatta, non c'è il tampone. Il punto è che mi certifica... Sì, ma l'ASL non c'è questo passaggio. Ma non è vero che non c'è il tampone. Ci sono decine di cronache che dicono però il contrario. Ma veramente non so dove non c'è questo passaggio. Non è vero che è così. Se io avverto l'ASL, l'ASL mi fa fare un tampone. Ma guardi che si avverte l'ASL, l'ASL non viene neanche a fare il tampone. L'ASL non fa il tampone, l'ASL non fa il tampone. Lei in questo caso non fa neanche il tampone. In alcuni casi quando ci sono i ragazzi in quarantena a casa dovrebbe fare l'ASL il tampone e invece vanno loro a farlo perché l'ASL non interviene. Quindi sono milioni diciamo i casi. Allora un momento, un momento. No, io prendiamo atto. Lei dice che invece questo accade... Così non si può discutere. Se uno prende un'ASL e fa di quel caso lì la notte nera delle vacche, allora non va bene. Qui se io avverto l'ASL che sono entrata in contatto con un contagiato, il tampone viene fatto. Quindi non so quali sono. Sarebbe molto utile, molto interessante che i media fornissero un elenco di tutte le altre. Forse se ne deve occupare il Ministero però. Forse il Ministero e le regioni, le regioni sottosegretarie. Vorrei chiaro. Io volevo tornare da Giovanni Floris con questo. Ma non si può dire una cosa come quella che ho sentito. Però sì, d'accordo, ma non si può nemmeno dire che funziona. Ricciardi intende di... Ricciardi intende di... Ma non è vero che... Ma non è vero che rintrac... No, 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 no. Cioè o lei però mi fa finire oppure non si chiarisce neanche un punto. Il rintracciamento non avviene solo con la Immuni, avviene anche con le Usca. Le regioni hanno avuto le risorse economiche per costituire un numero sufficiente di queste squadre di rintraccio. E anche qui, come al solito, ci sono regioni che hanno adempiuto pienamente, ci sono regioni che non adempiono pienamente. Ma ci sono state messe in campo le risorse e anche le figure professionali che devono far parte delle Usca. Il secondo strumento è la Immuni. La Immuni scatta in maniera anonima. Quello che vuole dire Ricciardi è che se non si fosse, diciamo, fatto della privacy un elemento così determinante da fare scomparire il tuo nome e il tuo cognome, perché questo è avvenuto, ma questo è avvenuto perché con l'autorità garante della privacy non è stata trovata un'altra soluzione. E quindi nella privacy totale, evidentemente, siccome non si sa chi sei, nessuno può mandare al tuo numero telefonico tutto quello che sarebbe poi invece stato utile. È chiaro, abbiamo fatto completare il ragionamento. Ma se questo viene sbagliato che venga, è giusto che i cittadini protestino. Sì, Giovanni Floris, volevo sentire te. Abbiamo messo molta carne al fuoco in questa parte e non poteva che essere così in una giornata che segue una conferenza stampa, diciamo, notturna. E quindi con poco tempo poi siamo sulle prime analisi.